a tutti ragazzi per questo nuovo video io sono l'orazzo 7 ma come voi ha ben notato guardate qua guardate qua ho finito il brawl pass quindi oggi riscuotiamo la bellissima skin buzz canaglia la volevo da tantissimo quindi ora la andiamo subito a prendere settantesima soglia, proprio ieri con wikirossic ho finito il brawl pass lo ringrazio di cuore quindi ve lo metto primo commento wikirossic tv ragazzi buzz canaglia 3, 2, 1 ooooo eccola qui bellissima skin ragazzi troppo bella e ora la andiamo subito a provare però nel tanto qui c'è una cazza gratuita nella quale non troviamo nulla perchè ieri avevo trovato un gadget di bombardino ve lo faccio subito vedere allora vediamo vediamo dov'è bombardino dov'è eccolo qua questo gadget vabbè ragazzi mettiamo il signor buzz buzz canaglia proviamolo subito poi nel tanto ragazzi mi faccio un po' di missioni tipo vinci tre partite in solo showdown ragazzi vi ringrazio di cuore di tutto il supporto che mi state dando e ragazzi dobbiamo arrivare ai 300 iscritti per me ci arriviamo sì per me ci arriviamo no 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 ragazzi veramente una spettacolare skin vabbè ragazzi peccato che abbiamo perso però vabbè perchè ragazzi ora proverò anche a portare buzz a rank 15 di livello 1 quindi è una cosa assurda quindi ragazzi non rimanete attivi perchè in questi giorni ci sarà veramente un box opening assurdo è il primo lo sai che non rimanerai troppo in vita ah sul primo ora ha rotto le scatole ora lo devo dire ha rotto proprio le scatole scrivete hashtag il primo hashtag il primo basta perchè basta basta emz no anche basta emz anzi hashtag basta emz perchè non si può ok intanto ragazzi io faccio sempre il gioco perchè lo voglio tutti insieme la missione quindi è più bello ragazzi proverò a fare cassi enormi perchè ho ancora molte missioni quindi posso farle ragazzi ragazzi comunque io non sono uno scioccone se voi lo sapete ma credo se voi siete veramente dei miei verissimi fan ragazzi lo sapete che io non sono uno scioccone però voglio pure portarmi a casa sta partita però ora sono al centro quindi ragazzi forse me la rischio non me la sono rischiato io mi ricarico la super raga perchè non vado addosso alla a jackie ok ragazzi ho la super che bella super raga marona ragazzi se morivo così allora ragazzi rigenero un momento la vita no vai 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 grazie easy partita veramente easy ragazzi mi faccio un momento il rank 15 e chiudo il video perchè anzi facciamo qualche altra partita poi ragazzi non lo so se oggi farò live ma credo di no perchè oggi ho postato un video quindi e sono veramente felicissimo che ho questo brawl pass perchè ragazzi questo qui mi sa che è il miglior brawl pass di tutti i brawl pass di brawl stars poi comunque leoncini intanto mi ricarico la super ambretta dopo ti sei proposta quindi ragazzi io faccio il fake teaming a questa coppa ha 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 frank che volevi fare frank che volevi fare ma qui c'è qualcuno io non chilo la jesse ragazzi forse mi conviene ragazzi 13 power up ragazzi con quanta facilità vinciamo raga rank 15 buzz ragazzi ricordiamoci che io ho un buzz di livello 1 livello 1 con il rank 15 beh raga devo dire la verità veramente è la skin una delle più belle di tutte oppure la più bella per questo sono veramente felicissimo che ho shoppato questo brawl pass e poi farò veramente un mega box opening guardate guardate raga ho conservato tutto praticamente tranne le monete un po' così poi le gemme sono 33 ma questo non è importante io allora immagino se tipo nelle missioni danno delle gemme sarebbe la cosa più assurda del mondo però vabbè ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto lasciate like iscrivetevi al canale e ragazzi ci si becca in un video o in un'altra live ciao 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 ciao